Il ruolo della deputazione parlamentare e dell'amministrazione comunale sulla chiusura dell'ex Tribunale di Corigliano Rossano, l'unico soppresso in Calabria, nonostante sia il più grande centro per dimensioni demografiche dei 30 chiusi in tutta Italia e della stessa provincia di Cosenza, ad alimentare le ponemiche in queste ore la recente approvazione del Comune di Castrovillari di ampliamento con un corpo aggiuntivo dell'attuale presidio giudiziario, confermando di fatto l'eterna bugia secondo cui il Tribunale di Castrovillari nel 2012 fosse ritenuto capiente ad ospitare l'utenza ionica, punti ripresi dalla componente nazionale dei Tribunali soppressi Dora Mauro. Nessuna alzata di scudi ed è un peccato perché abbiamo sempre detto che Castrovillari era stato costruito per contenere solo l'utenza di Castrovillari, non certo per vedersi accorpato il Tribunale di Rossano. Allora Presidente Chiara Vallotti e del Presidente del Tribunale di Castrovillari dichiarò tranquillamente, documenti sono agli atti ovviamente, che invece il Tribunale di Castrovillari era capiente e aveva la possibilità di contenere anche l'utenza dell'ex Tribunale di Rossano. Presentata dal consigliere regionale Giuseppe Graziano una proposta di legge al Presidente del Consiglio regionale della Calabria per una istanza da produrre in Parlamento, sotto accusa la deputazione parlamentare e l'amministrazione comunale. Non capisco come sia possibile che parlamentari di questo territorio, al di là di quello che è stato fatto, ripeto, non possano convogliare in un'unica direzione. Il Sindaco? Il Sindaco, l'ultima volta che, diciamo, al di là del Consiglio comunale che è stato celebrato proprio sulla tematica, non pervenuto.